La giornata Sunday Cup Baku perdono addirittura 6-0 contro i Millwall siamo nel secondo tempo adesso D-Cross anticipa benissimo Falanga che costringe i Baku a ripartire dalla difesa poi D-Cross ancora cade malissimo terra D-Cross fortunatamente sta bene il giovane difensore esterno dei Millwall adesso ancora i Baku cercano una sorta di azione offensiva con Falanga che purtroppo però sbaglia lo stop il pallone si spegne sul fondo dopo la buona guardia di Stavola si riparte dalle mani di Gagliotti che cerca Tarantino in avanti fa sportellate Tarantino con i vari avversari poi infine però non riesce a prendere il pallone Isernia insegue il difensore di Baku che scende buono adesso il dribbling ed è un bel gol bellissimo gol e l'attaccante di Baku bomba maranillo il tiro che finisce sul fondo sta là ancora Falanga buonissimo lo stop poi D-Cross senza far complimenti mette in fallo laterale si riparte dai piedi di D'Agosto cerca Fusaro anticipato benissimo da Tarantino stavo là il dribbling perde il pallone Falanga il passaggio laterale a cercare Fusaro anticipato in calcio d'angolo al centro Fusaro Gagliotti in due tempi serve subito Stavola sulla corsa passaggio laterale due contro uno D'Agosto poi Maranillo cerca la sciapolata morbida poi il passaggio per Fusaro i Baku recoprano il pallone poi Fusaro lo perde ancora nei confronti di Stavola che cerca centralmente il passaggio aveva subito fallo però almeno secondo l'arbit richiamo anche il collegamento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti